Uniche regole, abiti bianchi e portarsi da casa tutto. Tavoli, posate e naturalmente la cena. Con una premessa del genere, il singolare flash mob andato in scena ieri sera in piazzetta Litzman a Torbo le sembrava destinato a pochi intimi. Invece, cena con me, proposto da Guard Outdoor con il Consorzio 100, ha portato in piazza 300 persone. Insomma, un successo. Vediamo le interviste. Sono Walter Sestili, presidente di Guard Outdoors, il magazine del Lago di Garda, che ha organizzato cena con me. È un picnic, un flash mob, dove tutte le persone si portano tutto a casa, dal tavolo, dalle sedie, ai piatti, fino al cibo. È un modo per reinventare gli spazi, riutilizzarli e coinvolgere la comunità a riapproparsi del proprio territorio. Direi che i numeri, basta guardare la piazza, in questo scenario stupendo, mi sa che si può dire che è una manifestazione riuscitissima. I numeri erano imprevedibili, anche se un po' per il tempo, un po' perché è la prima volta che viene fatta sul Garda. Io direi che una manifestazione del genere, qui sul Garda Trentino, soprattutto a Torbole, un luogo così giovane, dinamico, direi che non poteva che riuscire nel migliore dei modi. Questa iniziativa è iniziata a Parigi nel 2009 circa. È stata portata in Italia a Milano nel 2012. E quest'anno, per la prima volta, la portiamo qua sul Lago di Garda, come prima edizione qui a Torbole. Noi come amministrazione abbiamo colto immediatamente e favorevolmente questa iniziativa patrocinata, direi più di così, anche perché ha un fondo di, diciamo così, c'è una socializzazione di fondo tra la gente. Il fatto di portarsi il mangiare e tutto l'occorrente da casa e soprattutto quello di finire la cena e lasciare il posto così come lo si è trovato, cioè pulito e ordinato, credo che sia anche un segnale di come si possa fare una manifestazione divertendosi e senza creare disturbo e danno a nessuno. Per noi il Lago di Garda non ha divisioni territoriali, è un'unica entità che va da Desenzano fino a Trento. Magnifica, stupenda, già fatta dalle altre parti d'Italia e del mondo, però sul Garda è la prima e credo che non sarà l'ultima e quindi buona cena a tutti. Per il prossimo anno l'idea è di riuscire a fare in contemporanea sulle quattro sponde del Lago di Garda questo evento, scegliendo Torri del Beneco, Toscolano Maderno, Sirmione e Desenzano insieme a Torbole e contemporaneamente alla stessa ora, alla stessa sera, organizzare cena con me.